Fermo là! Ah, ora capisco finalmente! Beh, ad lei signora, io non ci capisco niente. Ad ogni modo, prima di sparare o di chiamare i carabinieri, la prego mi lasci spiegare. C'è poco da spiegare. No, c'è molto invece. Ma ti rendi conto? Io me ne sto lì, indifesa, seminuda, e tu mi lega, mi imbavaglia, e poi a giardimento si mette a rubare. Non avevo altro scelto. Dovevo assolutamente riprendermi queste maledettissime cambiali. Che cambiali, scusate? Non sono un ladro, signora. Altrimenti mi potevo rubare il danaro, i gioielli, tutto. Ho rubato soltanto le cambiali, come ha visto. Nient'altro. Vero, in fondo ha rubato solo delle cambiali. Solo le cambiali. E lei, tra me e delle volgarissime cambiali, ha scelto le cambiali. Ero disperato, signora. Cinque anni fa era un debito di gioco.